Buongiorno a tutti, oggi riprendiamo con la nostra terza lezione di Forest Gardening e gli argomenti della giornata cominciano con il trattare del suolo. Questo componente è indispensabile, importantissimo e basilare per le piante. Andiamo subito avanti e vediamo delle foto che mostrano la prima fase di crescita delle piante che dipendono per forza dal suolo. Apro una brevissima parentesi dicendo che molte piante possono crescere anche substrati diversi come potrebbe essere l'acqua o altre forme di coltivazioni, ma nella stragrande maggioranza dei casi si deve sempre ritornare al suolo per le coltivazioni almeno quelle tradizionali e quelle che interessano a noi. Avevamo parlato brevemente nei giorni precedenti di cosa era il suolo, come si era formato e quant'altro. Allora, quello che volevo sottolineare ancora una volta era l'importanza del suolo come fattore di crescita delle piante ma soprattutto anche come elemento vitale. Spesso in agronomia il suolo viene considerato solo un supporto, uno strato lì inerte che sta là sotto con qualche microorganismo. In realtà, dal punto di vista naturalistico, il suolo è qualcosa di molto di più, è un supporto vivo che si evolve nel tempo, cambia continuamente tale e quale come cambiano le specie di piante e di animali che ci vivono sopra o all'interno. Ci sono diverse situazioni di suoli, ci sono diverse forme di suoli che vedremo mano a mano e che andiamo avanti. Allora, riprendiamo questa foto di come si era formato il suolo anche per chi non c'era ed è arrivato qualche giorno più tardi. Il suolo praticamente viene a formarsi dalla decomposizione della roccia madre. In situazioni, dicevo, in situazioni estreme, rappresentative, si parte dalla roccia madre che dovrebbe essere in nostri casi, per esempio, la roccia che si viene a formare dopo un'eruzione di un vulcano, quindi la lava. La lava si raffredda e comincia ad essere attaccata da alcuni componenti vegetali. O dalla roccia madre, oppure dalle terre che cominciano ad emergere dal mare, oppure ancora in altri casi di come avviene ultimamente per effetto del clima che sta cambiando, il suolo comincerà a formarsi e si sta già formando in quelle zone d'alta quota dove attualmente ci sono le rocce. E c'era la temperatura che limitava la crescita delle piante. Se la temperatura è aumentata sulle rocce nude, immaginate le rocce, mi riferisco alle cime più alte delle Alpi, quindi oltre i 3.000 metri, non c'era vegetazione o comunque molto stentata, adesso cosa succede? Che queste piante possono cominciare a crescere perché hanno trovato condizioni di clima più favorevoli. Attaccano le rocce e ci troviamo nella situazione iniziale qui a sinistra, che sto mostrando in questo momento. Le piante che cominciano ad attaccare gli organismi e le piante che cominciano ad attaccare le rocce nude sono i licheni. Il licheni è un'associazione tra un'alga e un fungo, quindi non è una pianta, è un'associazione di due esseri viventi che si dice vivono in simbiosi, cioè strettamente unite, a livello cellulare naturalmente. Questi licheni formano delle croste e cominciano a coprire le rocce e sono aggrappati alla roccia con delle strutture che non sono delle vere e proprie radici. Infatti la struttura di sostegno serve solo per rimanere fissa alla roccia, ma non svolge alcuna azione di trazione di nutrimenti, di assorbimento dei nutrimenti, perché i nutrimenti vengono catturati dalla superficie del lichene e sono quei minimi nutrimenti importati dal pulviscolo atmosferico. Quindi pensate un po', il lichene vive soltanto con pulviscolo atmosferico o quel minimo di quantitativo di componenti organici o inorganici che comunque volano nell'aria. Un esempio molto veloce potrebbe essere quello che notiamo quando si dice che ha piovuto terra. In realtà quel terriccio, quella polvere che viene da Sara, andando a depositarsi sui licheni gli permette di vivere. Sempre che ci siano le condizioni di nutrimento, quindi apporto di pulviscolo, di terriccio, quello che sia, e umidità, con la temperatura favorevole. I licheni infatti sì, sono dei bioindicatori, si chiamano, cioè indicatori della qualità dell'aria nel luogo in cui vivono. Alcuni sono sensibilissimi, bastano anche piccole percentuali di inquinanti, anche per esempio una strada che passa in un bosco, automaticamente ai lati della strada alcuni licheni scompaiono, non vivono più. Altri sono un po' più resistenti e riescono a ricoprire qualsiasi superficie. Anche una ringhiera smaltata, anche una trave di legno, una roccia nuda, un palo e così come già li conosciamo sui tronchi degli alberi. Da non confondere con i muschi, che vengono dopo uno stadio successivo. Il licheni può rimanere sulla roccia e finché arriva il muschio, sempre considerando tempi a seconda delle latitudini dove ci rivolgiamo, possono passare anche 50, 100 anni, anche 150 anni, sempre soltanto licheni, che aumentano di spessore, ricoprono tutto. Ce ne sono alcuni esempi molto belli sulle rocce vulcaniche del Vesuvio, delle ultime eruzioni o sull'Etna, dove ci sono delle valli, delle conche, piene di questi licheni crostosi di colore grigio, che viste da lontano sembrano piante, ma in realtà sono solo licheni frondosi, perché fa una delle fronde come delle piccole piantine. Dicevo, possono passare dei tempi lunghissimi se non ci sono abbastanza condizioni favorevoli per l'inserimento dei muschi. I muschi a questo punto invece sono delle piante già un po' più complesse, perché fanno la fotosintesi, è un solo unico organismo, questa volta non è una simbiosi, e i muschi cominciano a crescere laddove i licheni hanno preparato il substrato, cioè con le loro sostanze che contengono nell'apparato di aggancio, cominciano anche a corrodere la roccia, a scavarla, e i licheni stessi quando si consumano, invecciano e rimangono sulla roccia, cominciano a produrre la componente organica, perché il suolo, come vedremo tra un po', è fatto da una componente organica e una inorganica. Quella inorganica la fornisce direttamente la roccia, che disgregandosi diventa sabbia, viene sbriciolata sempre di più fino ad arrivare a particelle sottilissime come il limo e l'argilla. Quella è la componente inorganica, quella derivata dalle rocce. La componente organica è quella che conosciamo comunemente come humus, quindi l'humus da dove deriva? Deriva dalla decomposizione di piante e animali che ci vivono là sopra. In condizioni naturali tutto si accumula al suolo se non c'è dilavamento e se non c'è vento. Quindi arrivano i muschi. Dai muschi alle graminacee possono passare ancora diversi decenni o secoli, a seconda delle condizioni in cui ci troviamo. I tempi sono lunghissimi, mi ribadisco sempre il concetto di tempo perché in natura non c'è una scadenza, non c'è fretta, non c'è nessun orologio che scappa. Quindi la natura ha dei tempi molto 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 lunghi. I tempi più lunghi di quella dell'evoluzione naturale sono solo i tempi geologici. La crescita, l'alzamento e l'erosione delle montagne sono tempi ancora più lunghi. Andando avanti troviamo le graminacee che vanno a cominciare a insediarsi all'interno dei muschi perché i muschi formano uno strato più spesso, più compatto, li conosciamo abbastanza bene perché si trovano un po' ovunque nei boschi, sui tronchi degli alberi o sulle rocce e la caratteristica dei muschi che con questo strato soffice e compatto che formano riescono ancora a trattenere maggiore quantità di nutrienti, quindi di componenti organiche e inorganiche che si accumulano sul loro strato. E loro stessi, dopo un po' di tempo, diventeranno un ottimo substrato per le graminacee. Le graminacee sono quelle piante che avevo mostrato prima. Eccola, questa è una piccolissima pianta di grano, per dare l'esempio di una graminacee le graminacee sono anche chiamate monocotiledoni perché quando nascono producono un solo cotiledono cioè una sola foglia. Le più piccole sono le piante erbacee che stanno in questo prato, le monocotiledoni più piccole le più grandi sono le palme. Le palme sono monocotiledoni tale e quale come una pianta di mais o di grano. Dopo le graminacee cominciano ad arrivare i cespugli. Quindi noi troviamo, dalla roccia madre, una situazione in cui abbiamo una prateria, un prato una situazione del genere con erbe che diventano sempre più alte e a un certo punto in queste erbe sempre più alte cominciano a nascere i cespugli. Da dove arrivano? Questi cespugli cominciano ad arrivare in questi posti o da semi portati dal vento o dagli animali in alcuni casi, a volte anche dall'acqua. Le piante hanno tanti sistemi di diffusione e cominciano a crescere i cespugli a loro volta hanno una massa maggiore cespuglie più grande della graminacea vive più a lungo e produce maggiore quantità di massa da decomporre al suolo perché il cespuglio noi lo vediamo sembra che sta sempre lì ma in realtà ogni anno produce un quantitativo di foglie che riversa al suolo e forma una lettiera e già cominciamo a parlare di quella di quella componente che si trova all'interno dei boschi la lettiera c'è lo strato di foglie che in superficie sono asciutte sono secche durante la maggior parte dell'anno invece sotto in profondità c'è umidità e subito vedremo una cosa importante che l'umidità è importantissima per i microorganismi che vivono nel suolo perché se non c'è sufficiente umidità si blocca la decomposizione del suolo delle sostanze organiche e riprende quando torna l'umidità i casi estremi nei deserti non c'è accumulo di sostanza organica perché non ci sono neanche abbastanza piante e animali che lo producono e quel po' che si produce il vento lo porta via quindi viene disperso per contro nelle foreste tropicali non c'è accumulo eccessivo non c'è accumulo a volte neanche sufficiente di sostanza organica perché con la temperatura elevata e l'umidità molto elevata il processo di commissione è così veloce che tutto ciò che cade al suolo viene velocemente decomposto nelle foreste tropicali i due esempi più estremi noi abbiamo tutte situazioni intermedie partendo dai boschi di montagna fino ad arrivare al mare a seconda dei versanti, a seconda dell'umidità abbiamo più o meno accumulo di sostanza organica naturalmente è subito intuibile e facile pensare dove c'è un pianoro, c'è una valle la sostanza organica si accumula più velocemente che non sulle parti sommitali dopo le piante, gli arbusti arrivano gli alberi e avevamo già accennato nei giorni precedenti cosa succedeva cioè all'interno di questi arbusti gli arbusti intendo i cespugli tipo il rovo anche o il prugnolo o la rossa canina spesso gli uccelli, gli animali, i riditori e quant'altro va a nascondere i semi di piante di maggiori dimensioni come le ghiande nel nostro ambiente quello più vicino di solito questa funzione la svolge la ghiandaia ma anche altri animali, anche piccoli roditori nascondono i semi all'interno dei cespugli perché per loro all'interno dei cespugli è come se fosse un magazzino una dispensa, un deposito per superare la fase invernale in realtà questi animali hanno una funzione ecologica importantissima perché disseminano le querce e molte altre specie ovunque ce ne sia la possibilità di nasconderle non ne nascondono in un prato semplicemente perché nel prato non c'è abbastanza substrato neanche per nasconderle, l'erba spesso è compatta oppure il prato è troppo nudo all'interno del cespuglio invece si forma una sorta di incubatrice incuba questi semi, gli animali non mangiano tutti i semi che nascondono ne nascondono molti di più di quelli di cui ne hanno bisogno perché loro ragionano tra virgolette in senso di necessità estrema nel caso in cui ci dovesse essere un inverno molto freddo la neve per lunghi periodi comunque mettono al sicuro la loro dispensa di solito l'ambiente mediterraneo non è affatto così e quindi tutti questi semi danno luogo a una diffusione enorme di piantine all'interno dei cespugli i cespugli stessi proteggono le piantine da moltissimi fattori evapotraspirazione una piccola pianta appena nata deve rimanere in un substrato umido al di sotto del terreno la radice anche se si allunga nei primi mesi invernali e quando arriva la primavera già a 30-40 cm di lunghezza comunque 40 cm potrebbero evaporare velocemente esposti al sole invece all'interno dei cespugli l'umidità si protrae più a lungo allora un altro fattore invece importante oltre quindi l'umidità è la protezione dagli animali brucanti dal pascolo una volta in condizioni naturali il pascolo era svolto da animali selvatici tipo caprioli, cervi o anche cinghiali che andando a grufolare e rovistare di qua di là rubavano questi semi agli uccelli e non assicuravano né la dispensa agli altri animali né la crescita delle piantine all'interno di una pianta di rosa canina o di un prugnolo oppure di un rovo diventa più sconveniente andare a cercare i semi quindi preferiscono andarle a cercare da un'altra parte e quelli li lasciano stare e allora la piantina ne approfitta trova protezione perché le piante spesso sono spinose quelle di cui parlo e cominciano a crescere una volta che cominciano a crescere queste piantine a loro volta producono ancora maggiore quantità di substrato quindi di foglie che cadono giù però come abbiamo visto all'inizio con la successione tra muschi, tra licheni, muschi ed erbacee nel momento in cui arrivano gli alberi e cominciano a crescere i cespugli si spostano non nel senso che se ne vanno ma nel senso che la pianta di cespuglio che si trova ad essere coperta da una giovane quercia da un leccio, da una roverella o quant'altro comincia a deperire e forma a sua volta ancora maggiore quantità di sostanza organica la stessa pianta di arbusto andrà a crescere ai margini della radura dove c'è ancora tanto sole e ci sono altri punti da colonizzare queste sono un po' le successioni vegetazionali che vanno a braccetto insieme alla formazione del suolo perché più piante arrivano più specie ci sono più suolo si accumula e più aumenta quella che noi tanto amiamo come biodiversità poi una maggiore biodiversità vegetale porta a una maggiore quantità di biodiversità animale di conseguenza quindi arriveranno gli alberi il disegno è soltanto un disegno molto schematico ma fa vedere la profondità delle radici dell'albero in uno strato di suolo più profondo in realtà il suolo si è accumulato nel corso dei secoli, dei millenni tutto questo suolo di colore rossiccio che esiste in Puglia sulle rocce nude e bianche è un suolo accumulato nell'ultima era calda che c'è stata nel Sud Italia l'ultima era calda nel Sud Italia aveva permesso la crescita delle foreste tropicali come quelle che adesso stanno a Centroafrica o in Amazzonia e la fauna di conseguenza era dello stesso tipo c'erano i leoni, le iene, gli ipopotami e le zebre sembra impensabile ma sono stati trovati degli scheletri di questi animali dei fossili e quindi di per contro questi animali per vivere avevano bisogno di una situazione vegetazionale molto simile a quella attuale nelle zone tropicali e poi sono stati trovati anche i fossili di piante tropicali che oggi non esistono più le piante relitte di queste ere calde sono ad esempio il lauro il laurus nobilis questa pianta sempre verde che cresce in zone piuttosto fresche se c'è piovosità diventa un albero se non ha piovosità rimane un cespuglio il lauro è una pianta di quelle dei periodi caldi anche l'agrifoglio nonostante si è spostato un po' più su in montagna anche una pianta delle recalde insieme al leccio quindi lauro, leccio, agrifoglio queste piante sempre verdi oggi fanno un po' da contorno o da contesta alla macchia mediterranea ma una volta erano alcuni componenti delle foreste tropicali che vivevano in questi ambienti il suolo si è formato e si è accumulato a seconda dei luoghi più o meno sulle nostre montagne c'era uno strato di circa un metro di questo terreno rossiccio quasi ovunque circa un metro sempre a seconda delle condizioni dove manca questo substrato è stato l'effetto antropico successivo cioè taglio dei boschi, pascolo, incendio, arature sconsiderate e il suolo è stato dilavato e la roccia fiorante è venuta in superficie altrimenti doveva essere tutto coperto perché in alcuni ambienti dove questa situazione antropica non è stata così forte ancora ci sono dei punti dove il suolo è abbastanza spesso e profondo e di conseguenza sopra ancora ci sono degli alberi mi riferisco per esempio come ai boschi di Fragno nella parte centrale dei boschi di Fragno intorno a Martina Franca la stessa specie di Fragno è una specie che è sopravvissuta grazie alla conservazione di quel suolo altrimenti se non ci fosse stata la conservazione di quel suolo sempre grazie anche a fattori di umidità e temperatura anche quelle piante almeno non avrebbero formato dei grossi boschi ma sarebbero diventate molto più rade il suolo si può dividere in tanti orizzonti si chiamano orizzonti sarebbero strati ma lo strato in geologia è qualche altra cosa orizzonte perché sono tra virgolette delle fette più sottili si vede subito la parte superiore fatta da materiale organico che poi diventa humus e permette la crescita delle piantine poi sotto mano a mano che si scende si trovano sempre maggiori quantità di sostanza inorganica cioè rocce, pietre, sabbia, limo o argilla e minore quantità di sostanza organica perché la sostanza organica, dicevo prima, si accumula in superficie non può andare in profondità e qui entra subito una tecnica che l'uomo ha usato da millenni quella dell'aratura cioè rivoltare il terreno mandare sotto le sostanze organiche e permettere la coltivazione perché il suolo venendo ad essere lavorato arricchiva la crescita delle piante potenziava la crescita delle piante ma questo poi si è dimostrato avere dei limiti non va sempre bene specialmente nei frutteti specialmente nei vigneti come già abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni si sta passando la conduzione a prato perché si è visto che conservare quel prato sullo strato superficiale dà dei vantaggi nel medio e lungo termine maggiore delle arature perché le arature comunque sono un costo e sono uno sconvolgimento di tutti quei microorganismi che stavano lì in un ecosistema di equilibrio che si era formato e questo ecosistema di equilibrio si forma soltanto in tempi anche molto lunghi qui abbiamo una piramide schematica che spesso la si può incontrare io l'ho messo perché se qualcuno dovesse imbattersi in questa piramide con scritto limo, sabbia, argilla non c'è nulla di particolare di cui preoccuparsi ma soltanto pensare che questa piramide serve a classificare un tipo di suolo a seconda di quanta argilla, di quanta sabbia, di quanto limo c'è un suolo argilloso si trova nella parte superiore dove si va dal 40% al 100% di argilla poi dall'altra parte aumenta il limo e quindi cominciamo ad avere se siamo tra il 50 e il 65% abbiamo un suolo argilloso limoso se invece aumenta il limo ancora di più diventa limoso e argilloso fino alla fine che diventa completamente limoso distinguere il limo dall'argilla non è molto semplice ma non è necessario almeno nel primo approccio quello che invece è importante riuscire a capire il nostro terreno come cambia come si comporta durante l'anno se è un terreno che si spacca se si fessura se rimane asciutto se è polveroso perché in base alle variazioni che modificano questo terreno possiamo intervenire con delle specie più o meno idonee se è un terreno argilloso vi posso già anticipare che qualcuno ben sa si fessura si formano delle fessure degli spacchi profondi dove può entrare una mano per una profondità anche di un metro e mezzo quindi significa che per un metro e mezzo ad andare giù non ci sarà umidità il sole, il calore arriva fino giù e disidrata quant'altro tutto è quello che c'è intorno già con il limo le fessurazioni non sono così evidenti perché il limo ha una consistenza più sottile dell'argilla e quindi è un terreno che è meno soggetto a fessurazioni è un terreno che ha maggiori componenti di sabbia sappiamo che la sabbia è un minerale sciolto quindi friabile non compattante darà luogo a un terreno che non è soggetto a fessurazioni però di per contro un suolo con molta sabbia significa che è molto permeabile quindi perde velocemente l'acqua che gli viene somministrata o l'acqua che scende dal cielo invece un suolo argilloso conserva l'umidità più a lungo e in caso di eccesso di acqua può diventare asfittico cioè si impregna completamente d'acqua e le piante non possono crescere e allora c'è un termine che è stato inventato per dire che un suolo va bene troverete spesso anche sulle etichette di alcune piante da coltivare troverete spesso l'indicazione di una tot pianta che preferisce un terreno a medio impasto medio impasto dice tutto ma non dice niente perché medio impasto può essere medio impasto di argilla medio impasto di limo però medio impasto si dà per scontato che dovrebbe essere un terreno che contiene in percentuale più o meno simili tutte le componenti le componenti inorganiche ancora un altro orizzonte la pedologia è la scienza che studia appunto la formazione le caratteristiche dei suoli produce una sezione di questo suolo che andiamo ad osservare e si vedono dei profili profili o orizzonti erano uguali a quelli di prima e nei profili come al solito superiori troviamo uno strato più scuro il terreno nella parte superiore un terreno che non è stato sbosso e non è stato disturbato ha una superficie più scura la parte più scura è indice di sostanza organica maggiore quantitativo di sostanza organica la parte minerale diventa sempre di colore più chiaro può essere anche di colore rossiccio come i terreni in Puglia ma si avrà sempre una diversa colorazione tra rosso scuro marrone scuro e rosso chiaro fino ad arrivare alla roccia fiorante sotto le piante svolgono anche una funzione di disgregazione della roccia alcune piante addirittura hanno la caratteristica e la capacità di crescere tra le rocce perché per loro è una condizione naturale normale dove si insienono i semi a volte spesso sono piccoli quindi riescono a infilarsi in una fessura di roccia molto sottile e crescendo questa pianta dilata la roccia e permette la frantumazione un po' di queste piante sono le conifere che sono piante pioniere le conifere riferisco a quelle del bacino mediterraneo quindi pini e cipressi che riescono a tecchire con poco terreno nelle rocce semi a volte molto piccoli tranne il pino domestico e con le radici ad andare molto in profondità disgregano le rocce ma intanto producono substrato quello che a noi ci serve per dare un terreno più ricco e un'altra pianta interessantissima dell'ambiente mediterraneo che qualcuno mi aveva fatto vedere è il bagolaro che si chiama anche il nome in italiano spacca sassi è una pianta con delle radici che crescono ingrossano e riescono a spaccare qualsiasi tipo di roccia se trovano sempre alimento e substrato in profondità questa pianta spesso viene piantata nei viali stradali immaginate cosa succede con l'asfalto e con i marciapiedi solleva e rovina quanto più si trova intorno è un albero anche di grandi dimensioni assomiglia un po' tra un faggio e un olmo ha il tronco liscio come i faggi diventa grande come i faggi ma la foglia è un po' più piccola e appuntita come quella dell'olmo è la pianta dell'ambiente mediterraneo resistentissima a caldo e dà anche un legname di ottima qualità perché è molto flessibile e molto resistente quindi lo spacca sassio o bagolaro altro schema di sezione del suolo questa volta in 0 A, B e C sempre la stessa cosa ovunque ci spostiamo sulla superficie della terra troveremo sempre sezioni di questo tipo in condizioni naturali cosa succede con l'intervento dell'uomo lo strato A sparisce non esiste più direttamente strato B e C se l'intervento antropico mi riferisco all'intervento antropico perché è quello più immediato che lo si procura in pochi anni a volte ci sono anche interventi dovuti a cause climatiche il clima diventa più arido non si accumula sub strato il vento spazza tutto e arriva nella roccia fiorante ma questo avviene in tempi lunghissimi come appunto nelle zone desertiche nelle zone invece antropiche il processo viene accelerato anche dalla costruzione di strade sembra strano ma la costruzione di strade porta acqua dilavante che spesso viene dispersa in ogni dove e l'acqua dilavante lanciata lasciata in un campo porta dilavamento del campo stesso non sempre le acque vengono reggimentate con tanta cura tagliare gli alberi lo sappiamo quindi impoverimento della struttura esposizione al sole il terreno diventa più polveroso e minore possibilità di trattenere le sostanze organiche la sezione del suolo ancora questa volta con delle radici di albero le radici degli alberi vanno in profondità per cercare alcuni nutrienti e in superficie per trovare altri nutrienti in superficie vanno per trovare nutrienti di origine quindi organica quello che viene decomposto dalla lettiera in profondità ci vanno invece per trovare spesso quando non c'è acqua umidità e minerali che stanno più in profondità e questa doppia funzione è bellissima perché gli alberi loro vengono ad ancorarsi al suolo le radici devono andare in profondità per aggrapparsi specialmente se sono molto alti e vivono in condizioni isolate ma al contempo oltre ad aggrapparsi svolgono una sorta di protezione del suolo se può capitare qualche volta andando in giro nei punti dove ci sono stati degli scavi si vede subito nello strato principale quello A che avevamo visto del suolo nei primi 10 cm c'è una ragnatela di radici compatta come una rete come una rete le reti elettrosaldate molto forte e molto ben fissata al suolo quindi in condizioni naturali il suolo ha delle capacità di protezione molto elevate non è semplice non dovrebbe essere semplice andare a creare disturbo e che i mezzi meccanici e a volte la cultura non ne tiene in considerazione eccolo qua l'uomo può accelerare il processo di erosione del suolo oppure contribuire alla sua difesa la copertura vegetale dei suoli comincio da in alto a sinistra la copertura vegetale del suolo è un'ottima protezione contro l'azione erosiva l'abbiamo detto infatti la cioma degli alberi ecco un'altra cosa importante la cioma degli alberi frena la caduta dell'acqua sembra banale ma in realtà vi assicuro che è importantissimo considerare che una goccia d'acqua che cade da 300-400 metri di altezza più o meno a seconda quando sono le nuvole o anche più arriva con una potenza battente al suolo molto elevata quindi una goccia d'acqua arriva come un proiettile a terra perché cade in altezza elevata e arrivando a terra con forza smuove la parte superficiale del terreno se non è protetta mi riferisco a quei terreni appena arati per esempio vengono smossi e poi si crea il secondo problema che è quello del dilavamento dove ci sono gli alberi invece la goccia d'acqua batte contro i rami degli alberi si frantuma e poi non cade più da 200 metri ma cade da 10 metri da 20 metri e da 10 metri a 20 metri non arriva più come gocciolina intera ma sotto forma di pulviscolo viene vaporizzata chi avrà avuto l'esperienza di trovarsi in un bosco durante un temporale potrebbe avere un bel bosco chiuso in condizioni ottimali potrebbe aver notato questa caratteristica che l'acqua non ti arriva addosso sotto forma di gocce dirette ma sembra che ti piovigina perché l'acqua viene intercettata dai rami e viene frantumata addirittura le chiome dei rami essendo spesso aperte a ventaglio verso l'alto cercano di intercettare quanto più acqua possibile formano una sorta di imbuto e l'acqua che comincia a scorrere dai rami fluisce attraverso i rami e va giù proprio vicino al tronco sempre se vi capiterà un temporale spero non troppo violento in un bosco si può mettere la mano vicino a qualche albero e si vede che l'acqua sta scendendo continuamente dal tronco non tutto intorno perché l'albero a volte è un po' inclinato quindi scende nella parte dove c'è maggiore inclinazione e l'albero viene innaffiato si forma una sorta di irrigazione naturale cattura l'acqua scende attraverso i rami anche se ci sono le foglie e arriva vicino al tronco bagnando appunto la base del tronco ed impedisce le radici contribuiscono e impedisce che arriva al suolo troppo violentamente eccolo qua la pioggia se arriva al suolo troppo violentamente vi ripeto nei semi un po' ai margini è come un proiettile che tenta di scavare tenta di smuovere e di disturbare immaginate se ci sono dei semi di piantine sia coltivati o selvatici che stanno germogliando e delle gocce d'acqua che ci arrivano sopra ne creano insomma una grande compatto sì perché poi battendo forte grazie Gianluca battendo forte compatta il suolo e nel momento in cui ritorna il sole la parte che è stata pressata forma una crosta e lì subito si interviene con un altro procedimento che Gianluca fa divertire con un'altra aratura e il processo diventa un po' perverso perché più si ara più si compatta più si forma una crosta più si ara non si dà il tempo al suolo di andare in equilibrio di arrivare a un equilibrio l'agricoltura intensiva ci è arrivata per fortuna ma non dappertutto quello di formare dei tappeti erbosi sfalciando l'erba costa di meno e rende di più nel periodo medio-lungo e anche i nutrienti che si vogliono eventualmente somministrare mi rifiuto sempre all'agricoltura intensiva si possono somministrare benissimo nel tappeto erboso non c'è bisogno di interrarli perché ci sono alcuni elementi minerali che sono disponibili sotto forma di ioni quindi vengono a essere disciolti a contatto con l'acqua allora per questo motivo è importante dove è possibile ridurre la pendenza dei suoli qualcuno mi chiedeva a proposito di suoli in pendenza con rischio di smottamenti e quant'altro in alcuni casi estremi dove c'è già di lavamento dove c'è già una forte erosione si interviene con quelle opere che chiamano comunemente opere di ingegneria idraulica i gabbioni le palizzate fatte con rami o carramaglie anche nel piccolo nel nostro piccolo giardino non è necessario un gabbione ma può essere necessario fare delle barriere trasversali alla pendenza del suolo con i rami e gli scarti delle potature terrazzamenti piccoli terrazzamenti mi riferisco a un gradino 20 centimetri di altezza in modo che tutto ciò che viene di lavato si ferma dietro questa barriera che viene formata da sostanza organica che poi dei componenti si forma soltanto suolo naturalmente più è elevata la pendenza più è elevato il numero di gradini che devono essere prodotti questo per dare luogo a che cosa alle piante di poter crescere un momento prima di essere di lavate un sistema del genere in condizioni normali può controllare l'erosione in una pendenza in un ambiente veterario in un tempo che va da due cinque anni più o meno a seconda delle specie erbacee o arbustive o arboriche andiamo a immettere si sistema la scarpata per esempio si semina trifoglio oppure la sulla la sulla è un'altra pianta simile al trifoglio un'altra leguminosa di cui ancora non avevamo parlato ottima foraggera che forma delle rosette a livello del terreno enormi anche di un metro di diametro da una sola pianta un metro tutto coperto dalla stessa pianta quindi pochissime piante per superficie e si ha un bel tappeto compatto all'interno di questa pianta una volta che è secca e forma il suo strato organico in decomposizione può avvenire la crescita di altre piante un po' più delicate intanto il terreno è stato bloccato quindi tempi abbastanza veloci la sulla però per fare il tappeto di un metro di diametro impiega circa due anni in condizioni ottimali perché il primo anno nasce produce un fittone va giù e la rosetta è molto piccola 10-15 centimetri poi questa nelle primavere successive si allarga in modo circolare e copre una superficie molto più grande anche i trifogli svolgono funzioni del genere con dimensioni leggermente inferiori quindi la pendenza è importante dove c'è il terreno con pendenze elevate perché l'avevamo detto tanto maggiore la pendenza tanto maggiore sarà la velocità di scorrimento dell'acqua se l'acqua scorre veloce ci impoverisce il terreno e l'acqua poi è un elemento prezioso che nel terreno dovrebbe scorrere lentamente se proprio deve scorrere oppure rimanere ferma ed essere assorbita totalmente quella che cade dal cielo in ambiente mediterraneo cosa si può fare? evitare disboscamenti fatti con l'escavatore quelli scriteriati dove si pensa di portare subito velocemente un terreno da bosco da maccia mediterranea a campo coltivato non è vantaggioso nel medio e lungo periodo ti dà una resa immediata nei primi anni poi la resa crolla vertiginosamente queste pratiche sono state fatte da secoli con il pascolo taglio pascolo e incendio taglio pascolo e incendio queste tre azioni messe insieme hanno prodotto quella che è venuta fuori nell'ambiente mediterraneo cioè una maccia mediterranea è degradata distrutta l'inizio della crescita della gariga e la gariga ne avevamo visto qualche giorno fa è la situazione vegetazionale poco prima del deserto andiamo ancora avanti incrementare il rimboschimento si può fare anche con le nostre famose piantine alimentari o con piantine miste a seconda dei propri desideri delle proprie esigenze quindi l'importante la morale tutto questo è piantare mettere qualcosa se hai un terreno nudo abbandonato impoverito soggetto di lavamento metti qualcosa perché il costo per mettere una piantina all'interno di un terreno è infinitesimalmente più piccolo di quanto sarà il vantaggio che la piantina ti darà in termini economici una piantina a un vivaio forestale al giorno d'oggi costa intorno a un euro quindi un prezzo abbastanza contenuto o un chilo di sementi con un chilo di sementi di piante di alberi o sementi di erbacee si può coprire una superficie molto grande con una spesa di 20-30 euro sono costi contenuti è il nostro tempo e la nostra azione che va a modificare poi tutto quello che verrà fatto ti do un attimo il microfono Dimmi Volevo aggiungere quando si fanno quei lavori anche di di scasso delle pietre dei terreni oltre che dispendioso che poi si ha quel problema della caduta a seconda dei suoli in cui ci si trova molto spesso si va ad aggiungere percentuali di minerale più disponibili alle piante in eccesso che provocano clorosi ferrica e vanno a squilibrare quegli equilibri nutrizionali che ci sono quindi bisogna tenere conto che è sconveniente anche perché poi bisogna fare delle forti correzioni e sempre costanti finché il terreno dopo magari 10-15 anni raggiunge di nuovo quell'equilibrio perché si è apportato minerale in modo eccessivo con lo smantellamento ti ringrazio della precisazione che spesso viene fatta in aggiunta a quello che avevo detto si pensa che mettere molta componente organica o minerale nel terreno dia poi una ricchezza equamente distribuita nel tempo non è vero l'azoto si disperde velocemente si dilava velocemente è una sostanza minerale che può essere assorbita dalle piante solo se sono in fase di vegetazione quindi questo azoto arriva con l'humus con il compost o con il sacchetto di concime minerale se la pianta in vegetazione lo assorbe se no è perso metterlo in profondità lo stessa cosa è perfetto quello che ha detto Gianluca non è sempre una condizione consigliabile perché il terreno può essere intossicato può essere avvelenato dall'eccesso di concimazioni e vi assicuro che molto spesso l'aridità del suolo nei campi agricoli non è dovuta tanto al clima al dilavamento ma all'eccesso di fertilizzanti che come un medicinale dicevamo qualche giorno fa non diventa più un fattore benefico ma diventa un veleno la solita storia di una pastiglia di aspirina oppure una confezione tutta una volta ok le grandi opere edilizie quindi dicevamo devono tenere in considerazione il suolo dove operano per molti anni fino agli anni 60-70 in Italia l'impatto di valutazione ambientale vedere quanto era impattante un'opera in un terreno o quant'altro la faceva lo stesso tecnico che aveva fatto il progetto cioè l'ingegnere o l'avvocato o l'architetto tanto era un tecnico metteva una firma e via per queste simpatiche e banali motivazioni hanno costruito l'autostrada del sole nella zona del lago negrese in una zona estremamente franosa dove durante la costruzione alla fine degli anni 60 intorno ai 67 non riuscivano a collegare i due tronconi di autostrada perché come poggiavano i piloni il loro stesso peso dei piloni li portava ad inclinarsi altezza di lago negro lago negro casalbuono per la precisione tra lago negro nord e casalbuono poggiavano i piloni e si inclinavano in alcuni punti hanno fatto delle deviazioni catastrofiche che sono rimaste là per 40 anni e ancora ci sono in altri punti in altri punti ah ragazzi tutto questo era noto era già questa problematica era già conosciuta perché per fare prima per superficialità e per arroganza aggiungo non è stata consultata la facoltà di geologia più vicino i geologi già conoscevano l'appendino sapevano che quella zona non era stabile neanche a mantenere un pilone figuriamoci le travi sopra l'autostrada non è stata consultata si è fatta l'autostrada e poi per sopperire a questa vergogna di non riuscire a collegare l'autostrada sono stati fatti dei piloni ulteriori profondi 40 metri sono dovuti andare nello strato sotto inferiore della roccia che si muoveva dello strato di suolo che era in movimento arrivare alla roccia madre che in quel punto era 40 metri di profondità e fermare la frana per far passare l'autostrada è stata dovuta quasi fermare intercettare bloccare una frana profonda di 40 metri con dei costi esorbitanti oggi si tende a considerare tutto questo ma vi assicuro che a volte una svista una piccola sciocchezza poi ti porta a dei costi enormi che si ripercuotono sulla collettività perché queste opere non è che vengono costruite con l'acqua di rosa l'asfalto anche gli interventi minori molto spesso l'asfalto in un cortile crea delle buone condizioni di crescita per le piante che sono circondate dall'asfalto sembra strano ma l'asfalto è permeabile a seconda della grana con cui è composto è più o meno permeabile e poi permette l'entrata dell'acqua ma non la fuoriuscita dell'umidità quindi per questo motivo le piante riescono a vivere in ambiente urbano circondate da cemento e da asfalto anzi in certi casi sono anche belle rigogliose perché hanno una quantità di umidità conservata al di sotto dello strato di terreno superficiale però rimane il problema dell'acqua in eccesso che non viene assorbita e può essere dilavata quindi asfaltare un piazzale può andare bene può essere utile se noi ne abbiamo necessità ne abbiamo bisogno ma attenzione a dove si butta dove si lascia l'acqua di drenaggio quella in eccesso lo scolo la cunetta a volte la cunetta la si lascia nel primo punto più in basso che si trova là intorno quella cunetta può portare ad erosione in altri posti specialmente se si è in ambienti un po' più collinari mi riferisco più questa volta all'appennino su suoli su suoli argillosi mi viene subito in mente quell'esempio di frane che ci sono state in Calabria e nel nord Italia qualche anno fa dove c'erano delle frane enormi che sono arrivate addirittura in un paese e si vedevano le case che andavano giù spesso quelle frane cominciano da una cunetta non custodita sembra assurdo ma nella mia piccola esperienza vi assicuro che ho visto situazioni di questo genere anche in Basilicata c'è un paese che è stato completamente evacuato 60 anni fa per incuria del territorio perché l'acqua delle grondaie finiva nelle strade e dalle strade finiva in una scarpata la scarpata è diventata un calanco poi è diventata un enorme frana e poi alla fine come hanno cominciato a frenare il paese si sono accorti che c'era un problema e quindi hanno dovuto spostare tutto il paese si chiama Craco il paese quindi nell'Appennino dove il suolo è giovane la geologia intendo il suolo di tipo geologico questa volta è giovane i terreni sono molto instabili perché l'argilla è una roccia però è una roccia tenera friabile facilmente erodibile e non avendo sostegno degli alberi e quant'altro insomma può portare delle conseguenze molto costose oltre che la perdita di humus può portare delle conseguenze volevo dire molto più gravi quindi perché? perché queste strutture avevamo detto modificano la circolazione dell'acqua andiamo avanti la capacità idrica del suolo l'avevo accennato poco fa ogni suolo a seconda della sua costituzione può contenere più o meno acqua questo vuol dire questa immagine un suolo che contiene in un certo quantitativo di sabbia misto in percentuale ottimale diciamo 30% sabbia 30% humus e 30% argilla ha una capacità di contenimento dell'acqua maggiore rispetto a un suolo composto prevalentemente solo da sabbia che verrebbe lavato sì verrebbe dilavata velocemente cosa succede? che le piante hanno a disposizione la capacità idrico del suolo fino a un certo punto se la capacità idrico del suolo è inferiore ad alcuni parametri che variano da suolo a suolo e da condizione a condizione anche se nel suolo sembra che ci sia umidità la pianta non riesce ad assorbirla e questo succede specialmente per le nostre solite piante delicate gli ortaggi i fruttiferi di nuove varietà e tutte quelle piante anche ornamentali che vivono in ambienti estremamente controllati la capacità idrico del suolo la dice lunga sulla possibilità di lavorare il suolo perché se è troppo secco non va bene se è troppo bagnato peggio ancora un suolo troppo bagnato argilloso come anche questo in Puglia che ha una matrice argillosa è utile per essere impastato farne vasi d'argilla perché si compatta non c'è più possibilità di mantenere acqua e aria all'interno delle particelle l'altro componente che non avevo considerato e che i microorganismi invece considerano e utilizzano e portano nel suolo è l'aria nel suolo ci deve essere ossigeno sì sembra strano ma ce ne deve essere una piccola quantità una certa percentuale ma ci deve essere ossigeno accendi massimo di quello che la gente non crede sì cioè si continua dice proprio stamattina sono stato in un agrumeto prima di venire qui abbiamo i terreni che sono imbevuti d'acqua sì ha notato questo collega ha detto no ci voleva l'acqua perché ho visto le piante che stavano appassendo non erano proprio così ho detto ma guarda che è proprio il contrario ho detto perché c'è bisogno di fareare di ossigeno e di respirare ecco perché hanno bisogno dei capillari più in superficie che la pianta da sola li mette in stand by perché ne fa a diversi strati di altezza ci sono quelli proprio sopra quelli un po' più giù a seconda del 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 se è molto bagnato in un terreno argilloso si bloccano quelli là e la pianta respira da sopra quando gli tagliano tutti quelli superficiali non solo si si rallenta la ripresa la ripresa e anche la maturazione per esempio fatto in questo periodo da noi a mo stanno tutti in giro che allora c'è chi dice che l'annata è precoce c'è chi dice che è tardiva non si è capito perché perché a seconda se fanno le arrature profonde succede che i capillari superficiali che fanno respirare e convogliano potassio non so cosa comunque innescano il meccanismo della senescenza senescenza se l'albero senescente si comincia a invecchiare prima del tempo per la maturazione del frutto non lo fa più perché togliendo quei capillari si va a nutrire soltanto un po' da quelle radici in profondità che abbiamo quindi si rimette sul verde e i frutti perdono anche sapore perché i nutrienti all'interno dei frutti vengono distribuiti per la sopravvivenza della pianta perché quella è di principale importanza esatto e sembrano granulose a mangiare sembrano asciutti brutti ma qua se si mette a fare queste discorse a dire che ha bisogno di respirare la pianta allora è impensabile e quando gli dico che arare non fa altro che sminuzzare poi quando piove tappare cioè quello che facciamo solo nel momento del trapianto diciamo accivare il terreno si fa solo all'inizio perché come una cannuccia deve riuscire a tirare se ci sono troppi buchi la piantina schiata non attecchici bene questo fattore qui proprio cioè di tutto possiamo parlare con gli agricoltori che fanno agricoltura intensiva del discorso dei nutrienti delle arature però guai a toccargli il terreno dire che magari ci sarebbe bisogno di uno strato di 20 centimetri che ci fosse molta aria dentro non proprio dice mica si campa dall'aria no 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 non è proprio considerato e invece la pianta come tutti gli organismi ha molto bisogno addirittura grazie Gianluca di questa precisazione è sempre ottima perché addirittura alcune piante possono sopportare l'inondazione quindi il quantitativo di acqua in eccesso per brevi periodi le querce se vengono inondate anche 10 giorni possono seccare e immaginiamo gli alberi da frutta che sono quasi tutti molto delicati da aggiungere che se si osservasse di più la natura e quello che sta oltre il nostro giardino ci si accorge che ci sono delle piante che vivono in ambienti fluviali per esempio i pioppi e i salici che sono capaci di sopportare l'immersione delle radici in acqua per periodi molto lunghi ma quelle sono piante specializzate a vivere in ambiente dove non c'è ossigeno addirittura qualche volta anche queste piante pur di sopravvivere mi riferisco per esempio alle piante che si trovano nei margini intorno ai bacini artificiali delle dighe che vengono sommersi per 2-3 metri e emettono le radici a 2-3 metri d'altezza del tronco dove c'è l'acqua superficiale così catturano l'ossigeno disciolto nell'acqua perché 3 metri più in basso ossigeno non ce n'è più perché le particelle sono state tutte come diceva Gianluco occupate dall'acqua altre piante addirittura ultra specializzate che vivono che vivono solo nelle paludi in Italia sono solo delle piante importate mi riferisco al cipresso calvo si chiama tassodio quest'albero il tassodio che viene dalle paludi della Louisiana e del Texas è una pianta che vive in suoli perennemente allagati ma pur di sopravvivere emette dalle radici orizzontali delle radici verticali che formano come una sorta di ginocchio verso l'alto e poi ritorna giù questa sorta di ginocchio che si piega verso l'alto permette all'albero di respirare nei periodi di massima alluvione si chiamano pneumatofori pneumatofori significa qualcosa che aria polmoni per respirare addirittura piante ultra specializzate eppure devono avere scogitato un sistema per uscire fuori dall'acqua e respirare poi quando l'acqua si abbassa respirano pure con quelli che stanno sotto questo la dice lunga sulla necessità di ossigeno all'interno del suolo va benissimo anche questo andiamo avanti ecco adesso invece un'immagine con la carta dei suoli in Italia è una carta abbastanza vista da lontano perché più o meno copre le regioni d'Italia infatti la Puglia nel nostro caso è provvista di soltanto quattro colorazioni è l'altopiano delle murge nella provincia di Foggia nord di Bari poi tutta la parte del tavoliere a scendere giù fino a Santa Maria di Leuca e poi c'è una cosa strana verso Brindisi c'è un tipo di suolo molto simile a quello dell'arco ionico e molto simile a quello della pianura di Foggia questo suolo mi dispiace non c'è la leggenda mi posso anticipare è un suolo di natura argilloso quindi portato da fiumi in epoche passate perché l'arco ionico è costituito da argilla che è scesa dall'Appennino allo stesso modo la pianura della piana di Foggia è costituita da argilla che è scesa dall'Appennino campano e si è depositata in questi bacini diversamente la cosa invece per quanto riguarda il Gargano e tutta la zona centrale della Puglia un po' questa cartina è interessante ripercorrere la formazione delle montagne come avevamo visto nei giorni precedenti come è distribuita la catena montuosa così sono distribuiti un po' i climi i suoli la vegetazione è tutto correlato si dice sono tutti legati questi fattori gli uni agli altri è una carta dei suoli ma ci dà bene l'idea di che cosa c'è qua sopra l'arco alpino la pianura padana poi la catena appenninica fino ad arrivare in Sicilia la Sardegna cosa particolare ha dei suoli molto diversi molto più simili ad alcuni della parte centrale d'Italia e alla Calabria infatti nella Sila la parte centrale della Calabria qui nella Sila che indico adesso e in Sardegna ci sono suoli addirittura di origine granitica e questo granito è una roccia vulcanica raffreddata in profondità non è distribuita ovunque sull'Appennino si trova soltanto nella Sila e in Sardegna perché l'Italia è venuta fuori da movimenti tettonici che hanno rimescolato e hanno impastato continuamente tutto il materiale che c'era sotto il fondo dell'oceano prima che diventasse Mediterraneo e che si trovava tra l'Europa e l'Africa un po' non so se avete idea cosa è la tettonica il movimento dei continenti a volte si allontanano a volte si avvicinano il continente europeo e quello africano sono due continenti in avvicinamento prima c'era l'oceano in mezzo e tutto il materiale si è accumulato sotto il fondo dell'oceano con l'avvicinamento si è creata una specie di pinzatura cioè il materiale che stava sotto l'oceano è stato pinzato è stato schiacciato ed è stato portato su come succede quando piego il braccio e si formano queste pieghe era rettilineo così è stato schiacciato e si sono formate queste pieghe queste pieghe sono le nostre catene montane e sono venute fuori da che cosa? dall'impasto che c'era sotto spesso queste catene sono state ribaltate rimescolate e quindi si trovano le rocce più vecchie sopra e quelle più giovani sotto e per i geologi è un divertimento riuscire a capire qualcosa ecco un'altra cartina questa volta un po' più nel dettaglio in azzurro troviamo le pianure alluvionali la pianura padana bella grande visibile poi c'è la pianura della valle dell'Arno e la maremma prodotta in gran parte dal fiume Ombrone poi c'è la pianura vulcanica sembra strano ma Roma è nata su un suolo vulcanico migliaia di anni fa quelli che erano i colli laziali erano dei vulcani e la ricchezza e la potenza dell'impero romano deve grazie non solo alla posizione strategica al centro del Mediterraneo ma anche alla ricchezza e alla fertilità dei suoli che stavano tutti intorno spesso le grandi città si trovano dove c'era ricchezza del suolo e torniamo oppure il mare poi se c'erano tutte e due le città sottividate più grandi per esempio Amalfi era una potenza navale oggi è una cittadina piccolissima era una potenza navale come Pisa e Venezia perché aveva il mare come risorsa quando poi il mare non è stato più sufficiente Amalfi è rimasto un paesino piccolissimo perché alle spalle c'è una catena di montagne dove non si può coltivare quasi niente o ben poco invece Venezia o altre città sono cresciute a dismisura perché avevano alle spalle del suolo fertile produttivo delle pianure addirittura Pisa era una città una potenza navale adesso si trova a 20 o 30 chilometri nell'interno quindi significa che qualche un po' di secoli fa c'era il mare vicino a Pisa e poi tutti quei detriti che hanno accumulato nella valle hanno portato alla formazione di quella piana sono venuti dalle montagne sempre per il solito problema dell'impatto dell'uomo è stato veloce i fiumi hanno trasportato verso il mare tutto ciò che stava in alto andiamo nella nostra Puglia e vediamo il tavoliere la penisola salentina c'è scritto qui sopra pianura nata dal sollevamento di terre e adesso devo introdurre un po' di geologia scusatemi ma cerco di farla breve la Puglia è nata da un sollevamento geologico di rocce che sono simili a quelli dell'Albania quindi se non consideriamo il mare adriatico che si trova qua sotto le rocce della Puglia sono ed erano attaccate una volta all'Albania era come un'isola staccata lontano dall'Albania ma collegate da sotto il mare le ha ricoperte l'Italia che è venuta a sorgere da questo lato diciamo dal tirreno ad andare verso est si è scontrata con la Puglia e si sono saldate il punto di sutura sta tra Calabria e Basilicata si chiama Fossa Bradanica dove passa il fiume Bradano e questa sutura parte dal mare lungo il Bradano e arriva fino sopra il tavoliere delle Puglie sopra il Gargano è una valle profonda come un canyon che è rimasta ancora lì perché questo era appunto di aggancio tra due porzioni di continenti ecco perché in Puglia ci sono queste rocce piatte antichissime orizzontali invece il resto dell'Appennino è fatto da colline più o meno elevate e arrotondate non so se ci avete fatto caso ma c'è una natura geologica completamente diversa poi essendo antica ed essendo stabile non ha al di sotto movimenti tettonici importanti per cui non ci sono né vulcani né terremoti almeno non tanto quanto ce ne sono invece nella catena appenninica ancora andiamo avanti sempre più nel dettaglio questa volta una cartina da vicino della Puglia con le rocce calcare quelle segnate in giallo con la X tutta la parte centrale poi ci sono i depositi argillosi in colore marrone un po' più chiaro e le rocce prevalentemente argillose quelle dell'Appennino eccole qua prevalentemente argillose sono più argillose contengono più argilla di quelle di colore marroncino chiaro perché? perché quelle lì sono ancora vicine alle catene dell'Appennino che è formata da depositi marini che adesso si trovano in alto formano anche delle montagne di mille metri ma mille metri sono formati soltanto da pacchi da strati di rocce sedimentarie quindi argilla che si è depositata nel mare in tempi lunghissimi invece qua sopra sull'altopiano delle murge il sole era quello dovuto alla formazione che dicevo io prima in parte certo dal sollevamento ettonico e sicuramente alle rocce ma in parte è quello delle epoche calde dovunque c'è suolo di colore rossastro bruno come la Puglia significa che precedentemente c'è stato un'era calda calda significa foreste tropicali lussureggianti come quello che adesso esiste nelle foreste amazzoniche nel centroafrico in Indonesia lì si sta ancora producendo suolo di colore rossiccio consumo di suolo questa volta perché il suolo sembra strano mi viene consumato non certo come fanno i lombrichi mangiandolo e migliorandolo ma viene consumato in questo senso ricoprendolo da strutture da opere o da dilavamento a volte però per strutture sconsiderate le regioni più popolose sono quelle che consumano maggiore quantitativo di suolo ed è normale perché il suolo è rapportato al numero di individui di abitanti quindi vediamo subito Puglia Campania e Lazio belle scure come Emilia Romagna Veneto e Lombardia consumo di suolo pochissimo in Val d'Aosta perché veramente non c'è agricoltura intensiva zona di montagna è una situazione un po' più tranquilla vivono più con il turismo che con l'agricoltura come normale che sia ma queste regioni di colore più scuro specialmente queste tre di ambiente mediterraneo insieme alla Sicilia sono quelle che dovrebbero avere delle politiche economiche agrarie serie di protezione del suolo insieme all'ambiente e agli abitanti suolo argilloso con grave carenza di acqua carenza d'acqua perché? perché lì quando ha piovuto l'acqua c'era ma è stata portata via da quei ruscellamenti che diceva prima Gianluca durante le alluvioni i terreni arati come in questo caso era un giovane vigneto questo è un giovane impianto di vigneto in una situazione in pendenza queste piantine verdi sono piantine di vite sono state erose scavate lavate proprio le condizioni ideali paradossali in realtà per far crescere le piante di vite è stato messo in vigneto è stato rivoltato tutto è stato congimato e poi è stato portato tutto al mare perché? perché a monte ragazzi per una trascuratezza esagerata perché a monte il trattore non ha potuto spendere altra mezz'ora di tempo a fare dei solchi trasversali e non permettere questa erosione verticale verso il basso avevano finito hanno piantato le piante possiamo andare avanti come le precipitazioni sono sempre più violente da noi solo i capitali non bastano addirittura neanche arare nel senso contrario alla discesa basta l'unica cosa è l'inerbimento infatti in questo caso era consigliabile non voglio fare il saputello a priori però era consigliabile fare una rimozione del terreno solo sulle strisce dove si dovevano mettere le piante e lasciare intatto la parte centrale perché lì c'erano tutti i nutrienti che le piante sarebbero andate a prendere da sole però con i ma è complicato perché narratura totale è più semplice di narratura parziale ma l'erosione non è qualcosa di trascurabile suolo ghiaioso questa volta sono i suoli fatti completamente da ghiaia la ghiaia sarebbe quella frazione di roccia da due centimetri in su quindi quello che poi se diventa più grande viene chiamato pietrisco c'è una tabella specifica per indicare se è ghiaia se è sabbia o se è limo suolo ghiaioso che comunque da notare anche suolo ghiaioso viene colonizzato da piantine questa pianta qui all'interno ai bordi di questa strada o quest'altra più avanti comunque riescono a colonizzare e a stabilizzarlo su un suolo ghiaioso come questa scarpata stradale le piantine svolgono velocemente quella funzione e quelle successioni che abbiamo visto all'inizio cioè non aspettano che vanno i licheni partano direttamente le piantine perché la superficie è limitata è solo una scarpata stradale e intorno ci sono dei prati che disseminano abbondantemente perché in situazioni limitate è più facile controllare il tutto su grandi estensioni è molto più problematico suolo umifero quello che dicevamo prima di colore brunastro che sta in superficie poi guardate la colorazione diventa sempre mano a mano più chiara man mano che si va in profondità cosa succede? che sopra si forma l'humus e poi qui questa colorazione la dice lunga su tutti i nostri scorsi cioè il suolo ha due colori un po' più chiaro e un po' più scuro perché? chi è che l'ha rimescolato tutto quello? non certo le arature gli scassi profondi gli animali e le radici delle piante micro fauna principalmente tutti gli animali e tutte le piante che hanno contribuito a rimescolarlo le radici vanno anche più giù come dicevo prima nella componente prettamente inorganica ma questo strato superficiale è uno strato maggiormente ricco di vita del suolo e va bene con questo abbiamo finito penso che se necessario facciamo pausa e riprendiamo tra circa 20 minuti quindi tra 20 minuti riprendiamo le nostre lezioni grazie